Salve amici del Centro Meteo Italiano. Più sole, più caldo in vista, ma ancora piogge su alcune regioni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 23 maggio. Locali fenomeni al mattino su Lombardia, Triveneto, Liguria, Alta, Toscana e Sardegna. Sereno poco nuloso altrove per addensamenti alti in transito. Al pomeriggio ancora nulosità irregolare con piogge sparse sulle Alpi ma con sconfinamenti anche su pianure di nord-est. Più asciutto altrove. In serata e nottata sì rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nulosità irregolare in transito su tutte le regioni. Deboli piogge possibili sulle Alpi occidentali. Temperature minime in lieve calo al nord e in aumento al centro-sud. Massime in generale rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. 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 Grazie a tutti.